Ancora una volta una sentenza molto importante ragazzi, una sentenza della Cassazione, l'ennesima sentenza, che va a confermare la prescrizione delle cartelle in 5 anni. In buona sostanza ti sto dicendo che quando si tratta di impugnare per prescrizione una cartella non è più necessario, secondo queste sentenze, capire di che tributo si tratta, quindi IVA 10 anni, BOLO 3 anni. No, la cartella, quindi non il tributo, ma la cartella, il contenitore che appunto contiene all'interno il tributo, si prescrive in 5 anni. Non ha importanza, lo ripeto ancora, che all'interno della cartella ci sia IVA, TARI, IMU, IRPEF, IRES, la cartella si prescrive in 5 anni. Questo è quello che ci dice la Cassazione. Come saprai per impugnare un atto di, un accertamento per vizi di merito, tu hai 60 giorni. 60 giorni da quando hai ricevuto l'avviso di accertamento. Se invece ti arriva la cartella di pagamento dell'ex Equitalia, dell'agenzia di entrata in discussione attuale, devi sapere che quell'accertamento è diventato definitivo. La cartella di pagamento equivale ad un'ingiunzione di pagamento. Puoi contestare i vizi della cartella, ma non puoi più entrare nel merito della contestazione di quello che ti è stato inviato durante, quando hai ricevuto l'avviso di accertamento. Se è priva di motivazioni, se il calcolo di interessi all'interno della cartella ti risulta errato, se la cartella è prescritta, appunto, se la cartella è decaduta, se la cartella è priva di alcuni elementi essenziali. Perché devi sapere che all'interno della cartella la legge impone all'agente della discussione, in questo caso all'agenzia di entrata in discussione, di inserire tutta una serie di informazioni che sono anche diritto del contribuente. Ad esempio, quello di sospendere una cartella. Tu hai il diritto di sospendere una cartella e quindi come fare ci deve essere scritto all'interno della cartella. Quanto tempo hai per opporti? Quali sono le conseguenze se non paghi dentro i termini di quella cartella? Sono informazioni fondamentali che per legge devono essere inserite all'interno della cartella. La cartella non serve solo per chiederti quant'è da pagare, qual è l'importo, la sanzione, il dovuto relativo agli agi e gli interessi e così via. Ma serve anche per comunicare quelli che sono i diritti che tu hai per opporti ad esempio a quella cartella. Ora però il punto fondamentale che volevo riportarvi è la conferma, in questo video, è la conferma dell'ennesima sentenza della Cassazione che ha già avuto un suo seguito in Commissione Tributaria a Milano, Commissione Provinciale, che ha visto appunto condannare l'Agenzia delle Entrate il riscossore quindi che ha confermato la prescrizione, quindi ha confermato la sentenza della Cassazione della cartella in 5 anni. Ripeto, anche per tributi erariali dove si parlava di prescrizione in 10 anni, IRPEF, IVA. Bene ragazzi, questa era una notizia flash, un aggiornamento veloce e immediato su questa informazione dal mio punto di vista è molto importante. Come al solito l'invito è quello di iscriverti a questo canale per rimanere aggiornato sempre, costantemente, su queste altre tematiche perché non parliamo solamente di posizioni debitorie, ma altre tematiche che puoi andare a vedere all'interno del canale. E ci vediamo alla prossima video. Ciao! Ciao!